Anche sui bimbi, che anche qua lui dice che ha provveduto ai nostri bimbi poveri, eccetera, ma ci sono solo briccioli. Perché non pensa veramente a quelle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese e che non riescono addirittura a mandare i figli a scuola perché non ci sono i soldi, perché c'è il padre che è disoccupato e c'è la madre che non ha il lavoro. Dovrebbe veramente pensare a queste esigenze dei bimbi, non pensare a fantomatiche cose che ha solo lui e soltanto lui in testa. Perché io sfido chiunque possa fargli una domanda e dire in che cosa si concretizza la sua proposta, vedrete che anche lui non saprà rispondermi se non con nuvole in aria. Questo è quanto fa Renzi.